In questo video voglio presentarvi un prodotto molto molto particolare, un prodotto concentrato, quindi va diluito per uso esterno e ha ampissimo spettro d'azione per la difesa di tutto quello che riguarda funghi, batteri e anche Federico abbiamo detto virus. Quindi è un prodotto estremamente con un ampissimo spettro d'azione che magari visto che tu l'hai creato ci spieghi un po' meglio con che frequenza o che tipo di caratteristiche ha e che indicazioni possiamo dare al potenziale utilizzatore di questo prodotto. Il FF1 è un prodotto di estrazione botanica naturale anch'esso al 100%, è un prodotto che ha la caratteristica di combattere funghi, batteri e virus nel momento in cui sono presenti, può anche essere utilizzato in prevenzione, chiaramente i dosaggi sono inferiori, nel momento in cui io lo distribuisco in prevenzione evita che vi siano attacchi di questi patogeni. Tutti i prodotti che noi abbiamo vanno utilizzati, cioè vanno distribuiti con pompe a spalle, cioè vuol dire o perlomeno con tipi di roratori che rimangono dentro tra i 2,5 e i 5 atmosfere di pressione. Ci sono però, cioè questo tipo di prodotto può essere distribuito anche con l'atomizzatore ma va utilizzato puro, nel momento in cui decidiamo di distribuirlo questo all'FF1 con l'atomizzatore va utilizzato puro, quindi non va diluito con l'acqua, proprio perché l'atomizzatore la caratteristica che ha è quella di distribuire un prodotto dalle particelle molto più piccole e quindi sono molto più atomizzate rispetto al rioratore di conseguenza puro. Un tipo di attacco che abbiamo sempre di un particolare tipo di virosi nei prati è quel tipico cerchio della strega, quindi con questo io riesco a combattere quel tipo di problema, con quanti interventi? Con un intervento, due interventi? Solitamente con due interventi, ciò non toglie che non si possa riuscire anche con un intervento, dipende sempre dalla tempestività. Quindi abbiamo capito che è un prodotto che ha un ampissimo spettro d'azione, che non è una cosa normale, sui prodotti che riescono a combattere i virus di solito sono solamente per quel tipo di problema, i battericidi sono per quel tipo di problema, quindi qui invece abbiamo un prodotto che ha un ampissimo spettro d'azione e quindi viene considerato il re fra tutti i prodotti per la difesa di questa tipologia. A questo punto, se volete effettuare l'acquisto, non fate altro che cliccare nel link in descrizione.